Salve a tutti e bentornati su Calamos, strumenti di scrittura. Oggi iniziamo a parlare della storia della stilografica, una storia per alcuni versi avvincente che attraversa ormai un paio di secoli. La stilografica come sappiamo è uno degli strumenti e degli oggetti più personali ma la sua storia poi non è così tanto antica, infatti nasce a New York nel 1883 per mano di Lewis Edson Waterman, oggi a tutti gli effetti considerato il padre della stilografica. Lewis Edson Waterman nacque a New York nel 1837 si trasferì con la famiglia all'età di 16 anni nell'Illinois dove lavorava nei mesi estivi come falegname e successivamente divenne agente presso una casa editrice, insegnante di stenografia poi e infine un agente assicurativo. A 40 anni Waterman vendeva polizze assicurative sulla vita nella città di New York. A quell'epoca tutte le polizze dovevano essere firmate con la penna ad inchiostro e un giorno Waterman aveva preparato una domanda per una grossa polizza utilizzando una delle penne dell'epoca e si ritrovò con il suo cliente per la firma ma la penna venne meno ai suoi doveri e rilasciò una grossa macchia di inchiostro sul foglio rovinando il documento e quindi rendendolo inservibile per la firma. Nonostante Waterman fosse riuscito a preparare una copia un concorrente gli soffiò l'affare. Waterman capì allora che aveva bisogno di una stenografica più affidabile e grazie al suo talento per la meccanica si mise subito all'opera. Si rese conto che il problema principale consisteva nell'erogazione dell'inchiostro e quindi decise che il modo migliore per risolverlo era quello di sfruttare la capillarità. Si mise a studiare quindi un sistema di ricossione che si basasse sul principio della capillarità e con strumenti come la lima, la sega, cominciò a produrre un sistema che consisteva in canali per guidare l'inchiostro verso la punta del pennino e prevedere delle prese d'aria atte a controllare meglio il flusso dell'inchiostro all'interno della penna. Dopo numerosi tentativi giunse finalmente a un canale quadrato con due fessure che correvano parallele alle pareti e una terza nel mezzo del canale. Questa configurazione nel 1883 fece sì che Waterman potesse ricevere il brevetto dall'ufficio brevetti americano il 12 febbraio 1884 data ufficiale della nascita della stilografica. Il successo di quell'invenzione lo indusse a porre fine alle sue attività nel campo assicurative e a fondare la L.E. Waterman Company e quindi diventare una fabbrica che riusciva a produrre a New York circa 200 penne durante il primo anno di attività. La penna ricava la scritta Waterman's Ideal Fontan Pen garantita 5 anni e gli stesso forniva con la stilografica una garanzia scritta contro qualsiasi eventuale difetto della penna. Già nel secondo anno aumentò la produzione fino a 500 penne tutte fatte a mano e in ebanite. L'inchiostro era contenuto nel serbatoio che veniva riempito con l'uso di un contagocce. Waterman era una persona che aveva a cuore il cliente non voleva che la sua impresa diventasse così grande da non poterla dirigere da solo perché considerava ogni cliente un amico e teneva un elenco di nomi ed indirizzo di tutti i suoi clienti. Tuttavia l'importanza e il guadagno che stava realizzando non gli permese di continuare questa pratica commerciale. Così un suo amico già nel terzo anno gli consigliò di una pubblicità in una delle maggiori riviste dell'epoca e quindi gli offrì un prestito per ingrandire la sua attività. La pubblicità ebbe un tale successo che Waterman e la sua stilografica ideal furono richieste in ogni parte della nazione. Fu addirittura necessario costruire fabbriche per la produzione dei pennini e per la produzione delle banite necessarie alla costruzione delle penne. Quando Waterman nel 1901 morì si vendevano circa mille stilografiche al giorno. I primi modelli avevano come distinzione la misura del pennino e venivano numerati 2-4 in funzione di questi. Nel 1890 furono anche lanciati dei modelli di stilografiche da scrivania usate un po' come si usavano le penne d'oca e seguirono delle stilografiche con il cappuccio conico nel 1892. Waterman aveva un fiuto eccezionale per gli affari e si circondò di persone capaci fra cui William Ferris che perfezionò i macchinari in modo da aumentare la produzione e diminuire l'impiego di mano d'opera. Nel 1903 dopo la sua morte fu introdotta una stilografica con il ricaricamento automatico a pompa. Questa penna veniva ricaricata per mezzo di uno stantuffo il quale agiva su un serbatoio trasparente situato nell'estremità opposta del pennino. Tuttavia diversamente da quanto si possa pensare non ebbe un gran successo. Sempre in quegli anni si sviluppò quello che venne chiamato clip camp praticamente il fermaglio sul cappuccio che invece quello fu una una grande novità per l'epoca. La vera novità si ebbe nel 1907 quando fu introdotta la stilografica di sicurezza e numerata come 42 e 44. Permetteva mediante una rotazione della testina di far uscire rientrare l'intero pennino insieme al sistema di erogazione. Questo sistema conferiva alla stilografica una chiusura perfetta impedendo le eventuali perdite di inchiostro. Quindi la stilografica divenne a tutti gli effetti un splendido oggetto portatile e a prova di macchie. e la stilografica waterman fu legata alla stilografica waterman fu legata per sempre la frase safety first sicurezza innanzitutto. Nello slogan che diceva sicurezza innanzitutto ricordati che la stilografica ideal safety waterman è sempre sicura. Nel 1908 la waterman modificò il sistema di caricamento con l'utilizzo di un sacchetto che veniva compresso mediante la pressione di un dito contro la barretta metallica sul manicotto. Questo modello fu poi perfezionato dalla Conklin e si chiamò coin self filler e il sacchettino veniva compresso per mezzo di una di una moneta inserita in una in una fessura del corpo della penna. Nel 1913 infine furono introdotte le pocket self filler penne tascabili e con ricarica automatica che furono una vera svolta nella storia della stilografica. Allo scoppio della guerra molti soldati si servirono delle stilografiche per scrivere le loro lettere a casa e il 28 giugno 1919 a Versailles fu siglato dall'inglese David Lloyd George l'accordo di pace utilizzando una waterman ideal fontan penne. Fu la prima volta che fu utilizzata una stilografica per un atto ufficiale internazionale. Bene direi che per oggi è tutto per la storia della stilografica e per i suoi inizi è tutto poi la storia continuerà con marche ancora più famose come la Conklin, la Parker, la Wall Eversharp e altre penne e infine si la Schaeffer anche dimenticavo arrivò anche nel nostro paese ma direi che questa è un'altra storia e magari merita un altro racconto. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!